bombe martellate in testa una task force per ritrovare franco delitto shake bar chiesto il rito abbreviato ben trovati al tg quattro misure cautelari della polizia in relazione alle indagini sulle bombe fatte esplodere quest'estate a cassino contro un'auto al quartiere colosseo la finestra di un'abitazione a pianoterra in via 20 settembre e un bar pizzeria tre giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni agli arresti domiciliari obbligo di dimora per una donna e un quarto uomo ricercato in quanto irreperibile sono accusati di aver aggredito un 35enne di un paese del circondario ritenendolo responsabile del lancio della bomba al bar pizzeria e di averlo malmenato anche con delle martellate in testa sino al punto da farlo svenire al fine di fargli confessare l'attentato una task force 23 uomini di protezione civile vigi del fuoco carabinieri forestali e guardia di finanza su 12 mezzi per ritrovare franco vettese il pensionato di cassino dell'età di 77 anni con problemi di orientamento scomparso da lunedì appello della moglie la donna ha rivelato di una telefonata in cui il marito chiedeva medicina e acqua dicendo di trovarsi in una zona del centro di cassino dove però non era più presente quando sono arrivati i soccorsi delitto dello shek bar a frosinone il giovane albanese miche a zaka chiede il rito abbreviato nel tentativo di beneficiare di uno sconto di pena bus bus rapid transit a frosinone i lavori sono al 36 per cento in linea con il crono programma si avvicina il ripristino del doppio senso di marcia in via marittima e si valuta l'ipotesi di far viaggiare il mezzo pubblico su sede stradale promiscua un anziano che attraversava la strada sulle strisce pedonali è stato investito da una microcar condotta da una ragazza in via don minzoni a frosinone soccorso e trasportato in ospedale non è in pericolo di vita operazione alto impatto della polizia sora controllate 228 persone in centro tra piazza meri rossa e piazza santa restituta il cane isco scova ascisce nascosto in una traversa tabaccheria in fiamme in via santa maria ponte corvo rapido e risolutivo intervento dei vigili del fuoco i carabinieri arrestano un uomo di serrone evaso per la terza volta dagli arresti domiciliari ai quali è sottoposto per diversi reati stava passeggiando nel centro del paese mondo del lavoro l'azienda fiorini gomme a tecchina di latri avviato le selezioni per un posto di gommista a risentirci alla prossima edizione